Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale di Pippo Quarto. In questo video avremo la stupenda Cristina Dragano e un giovanotto dall'aria sospetta. Uno di quelli che proprio non ci convince. Ce lo presenta la dolce Cristina, ma poi vedrete che ho ragione. Giorgio, ciao Giorgio. Chi ti conosce? In effetti ce lo stavamo chiedendo anche noi, chi lo aveva mai visto prima. Il giovanotto si presenta come esperto di compresse che farebbero miracoli. Ma siamo sicuri che non nasconda qualcosa? Il dubbio ci è venuto ascoltandolo in diretta, in primis perché ha menzionato tutta una serie di ingredienti che manco esistono in natura. Il fucus grazie alla sua ganda. E in secondo luogo perché pare che nessuno della sua famiglia sapesse di queste sue invidiabili competenze. Non a caso la dolce Cristina cerca di far luce sulla questione e chiede a Giorgio... Ma quando l'ha scoperto tua mamma questa cosa? Non so se l'ha scoperto, infatti non so se sta guardando. Non so se sta guardando, vabbè, piccoli segreti. Esatto. Lui se la ride, ma qui la questione è abbastanza seria. Durante la conversazione scopriamo un'altra cosa che ci ha fatto insospettire ancora di più a proposito di ciò che effettivamente Giorgio offre al pubblico. Sottolinea, infatti, che lo puoi prendere quando ti pare, in qualsiasi momento della giornata, anche lontano dai pasti. Quindi sembrerebbe un prodotto buono e adatto a tutti. E invece si smentisce un attimo dopo, quando afferma che... non prende, fa sempre le storie, capricce e quant'altro. Insomma, il mistero si infittisce. E la dolce Cristina capisce che c'è qualcosa che non quadra. Durante la spiegazione su come e quando prendere quel prodotto il giovanotto dà tutta una serie di indicazioni specifiche e dettagliate, sottolineando che il pubblico a casa deve assumerlo attenendosi a ciò che ha riportato sulla confezione, mentre lui però... Posso prendere in un altro formato. A questo punto Cristina ha le idee più chiare e dice a Giorgio di gettare la maschera ed essere sincero. Il giovanotto a quel punto ammette che si tratta di un... Esatto, un Omega 3 diverso, un Omega 3 titolato Inala. E alla fine ci siamo arrivati. Quindi il giovanotto gestisce una piazza tutta sua ed infatti Cristina chiede se... Possiamo anche distribuirle, no? Assolutamente sì. Cercando però di andare d'accordo con tutti per... Sì, noi vogliamo evitare che litighino tra di loro. Sappiamo quanto siano territoriali, ma la cosa più importante è non far arrabbiare il capo. Sarebbe perfetto con il drena. Ovviamente drena è un nome in codice. Uomo che è arrivato ad una certa ora va incontro ad un... Picco di Stresca. E questo ci dispiace assai. Ragazzuoli belli il video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Grazie mille della visione e arrivederci al prossimo appuntamento.